E come spesso succede nel cartone, dopo questa frase Spongebob prende l'attrezzo direttamente da qualche parte a terra, nonostante non ci fosse nulla fino a un secondo fa. Poco dopo, mentre pulisce la casa, notiamo che le mani con le quali stringe l'attrezzo cambiano di posizione in continuazione durante i cambi di inquadratura. Un secondo dopo, vediamo che i pezzetti delle conchiglie non sfiorano nemmeno alla casa di Squiddy, dall'interno invece arrivano fino alle finestre. Com'è possibile? Nel momento in cui Spongebob prende in mano la pompa dell'acqua, notiamo che questa parte dalla casa di Squiddy, un attimo dopo invece parte dalla casa di Spongebob. Passa giusto un attimo e la pompa cambia di nuovo di posizione. Quando Squiddy esce fuori casa, vediamo dell'acqua a terra, la quale scompare un millisecondo più tardi. In tutto ciò anche Squiddy cambia di posizione, prima si trovava su queste tavole di legno e un attimo dopo si trova sulla sabbia. Troppo rumore, devo chiudere l'acqua, aspetta! Usando un rubinetto inesistente, il quale compare durante l'attimo successivo. E scompare di nuovo pochi istanti più tardi. Squiddy toglie il contenitore del pepe dalla testa e lo poggia a terra, e in tutte le successive riprese il contenitore svanisce nel nulla. Lo stesso succede anche con il pepe che si trovava sul naso di Squiddy fino a un secondo fa. Ora tocca la stanza di Spongebob, la quale cambia in continuazione durante tutta la serie. Di mattina la coperta diventa più piccola, la ciotola di Gary si trova alla destra del letto, cambia la quantità e posizione dei bulloni sulla porta, la lampada scompare nel nulla e aumenta anche la quantità di scalini. Non chiederò come faccia Spongebob ad avere le uova nelle profondità dell'oceano, più che altro mi interessa come mai il guscio rimane attaccato alle sue dita nel momento in cui viene spaccato. Spongebob esce dalla casa con addosso tutti questi cerotti e questo pezzo di pelle staccato, passa giusto un secondo e tutto torna alla normalità come se non fosse successo nulla. Durante questa scena Spongebob lascia cadere il cuscino a terra, il quale scompare nel giro di un attimo. Qui vediamo che il braccio sinistro di Spongebob è completamente assente, a quanto pare si scocciavano di disegnarlo. Squiddy indossa la sua solita camicia marrone, la quale durante il cambio di inquadratura si trasforma in un pigiama rosa. Spongebob lascia questa striccia di pittura sulla casa di Squiddy, qualche secondo più tardi non c'è più nulla. Squiddy cammina con lo specchio in mano, nel momento in cui arriva Spongebob lo specchio cade a terra, dopodiché scompare del tutto. All'ospedale succede la stessa identica scena della casa di Spongebob, vediamo un sacco di spazzatura a terra che cambia di posizione durante il cambio di inquadratura, inserisco due screenshot per farvelo vedere meglio. Vicino al letto di Squiddy vediamo due orsacchiotti, un attimo dopo ne rimane uno solo ed è appoggiato in modo differente rispetto alla scena iniziale. Questa valigetta blu appoggiata sopra il mobile, dopo pochi secondi scompare nel nulla. Lo stesso succede anche con le ossa appoggiate a terra vicino al letto, le quali scompano nel nulla. Il corpo di Squiddy è tagliato in parti, nel giro di un secondo si unisce a perfezione. Vediamo che questo interruttore si trova alla destra dei barili, un attimo dopo al centro di questi due per poi spostarsi di un metro verso la sinistra. Qui notiamo un errore senza nemmeno cambiare l'inquadratura. Guardate questo filo, nel momento in cui il plankton abbassa lo schermo, il filo scompare nel nulla. Plankton prende questo liquido strano tra le mani, dopodiché le abbassa e il liquido non c'è più. Come succede spesso in questo cartone, gli oggetti compaiono nel bel mezzo della scena. Per esempio qui vediamo che plankton guarda l'orologio sul polso, il quale non c'è mai stato nelle riprese precedenti. Plankton lascia cadere la pistola a terra, vediamo che sta a terra anche nella ripresa successiva, per poi scomparire nel nulla quando arriva SpongeBob. Guardiamo meglio questi enormi bulloni, nell'inquadratura successiva diventano più piccoli per poi diventare i minuscoli e tornare alla grandezza naturale solamente verso la fine. Questo monitor non ci dovrebbe proprio esistere, dato che ci hanno fatto vedere come fu completamente disintegrato qualche minuto fa. Qui la porta si apre verso l'interno, un attimo dopo vediamo che si apre verso l'esterno. Tra l'altro plankton, che fino a un secondo fa era attaccato alla serratura, si lontana di un metro. Di solito nella parte destra del locale non c'era nulla, ma dato che serve per la trama, queste grate magicamente compaiono dall'aria. Questo tizio stringe il panino tra le mani, nel momento in cui si alza e inizia ad avvicinarsi al tavolo, il panino scompare. Questo interruttore si trovava proprio vicino al pulsante rosso, poco dopo vediamo che è scomparso nel nulla. La bottiglia è poggiata sulla parte destra della mattonella, un attimo dopo si trova sulla parte sinistra. Dietro al tubo vediamo il muro spaccato, qualche minuto più tardi una parte del muro si rigenera del nulla. Alla sinistra di questa tenda c'è solamente uno spazio vuoto, pochi attimi dopo vediamo questa botte a 10 cm di distanza. Durante questa ripresa Spongebob sta attaccato alla barca e al muro, durante il cambio di inquadratura si trova molto più lontano rispetto alla posizione iniziale. I vestiti sullo sfondo cambiano completamente in questa scena. Tutte le bende che Mr. Krab ha lasciato di fronte al negozio, nel momento in cui esce fuori scompaiono nel nulla. Qui arriva un momento abbastanza strano, Spongebob strappa l'occhio destro di Mr. Krab e vediamo che al posto di questo c'è solamente un pezzettino bianco. Vediamo il pezzettino bianco anche fuori dal negozio, ma un istante dopo questo diventa color pelle. Alla sinistra di Spongebob c'è questo cestino di popcorn, un attimo dopo non c'è più nulla. E poi Spongebob si trovava alla destra di Squiddy, l'attimo successivo si trova alla sua sinistra. E per finire questi baffi finti scompaiono nel nulla durante lo zoom. Oltre al fatto che Mr. Krab non potrebbe tremare congelato nel ghiaccio, le ciele cambiano di posizione durante questa scena. Il ghiaccio, la pelle è identica, cadono a terra, ma un attimo dopo vediamo che non c'è più nulla. Il genio della bottiglia! Al posto di questi due pulsanti verdi, nella successiva inquadratura vediamo un posto vuoto. Mr. Krab esce fuori casa e vediamo che la porta è splancata. Prende il giornale e la tazza delle mani del tizio e magicamente la porta si chiude da sola. In notananza vediamo solamente il Krusty Krab. Un attimo dopo compare Spongebob impegnato a pulire il vetro, contando del bidone della spazzatura a fianco. Tra l'altro è scomparsa anche la strada sulla quale si affaccia il locale. Spongebob toglie il tappo e lo lancia da qualche parte di fronte al Krusty Krab e se ne va per fatti i suoi. Quando pochi minuti dopo arriva a casa, il tappo torna di nuovo al suo posto. E in tutto ciò la bottiglia era molto più piccola davanti alla casa di Mr. Krab ed è diventata tre volte più grande a casa di Spongebob. Il televisore si trova a due metri dalla parete. Qualche secondo più tardi si avvicina a quasi attaccarsi a quest'ultimo. Sul clarinetto di Squid ci sono sei fori. Un attimo dopo ce ne sono solamente cinque e sono anche diventati molto più piccoli. In questa scena dietro a Spongebob c'è solamente la sabbia. Nel giro di un attimo compaiono questi fiori alias alghe. In tutte le serie ci hanno sempre mostrato che i mobili nella casa di Patrick erano fatti con la sabbia. Ora per qualche strano motivo vediamo dei mobili normalissimi. Tra l'altro questi sono molto più alti della casa e quindi dovrebbero essere schiacciati dalla roccia. Il corpo di Patrick è ingessato e pieno di botte. Nel momento in cui Spongebob pesce fuori dai locale Patrick torna normale. Sulla schiena di Mr. Krab non vediamo alcun foro il quale magicamente compare durante questa scena. Plankton si strappa i vestiti da addosso e questi rimangono sulla chela di Mr. Krab. Un attimo dopo non c'è più nulla né sulla chela né a terra. Pochi minuti dopo quando Mr. Krab fa uscire Plankton dalla bottiglia quest'ultima scompare direttamente dalle sue mani. Sul bidone della spazzatura non c'è il coperchio. Non c'è nemmeno in quest'altra inquadratura e nemmeno in quella successiva ma compare dal nulla solamente alla fine. Per poi scomparire di nuovo nel momento in cui Spongebob getta via la bottiglia. La chela di Mr. Krab è pulitissima. Durante lo zoom si sporca d'olio quasi totalmente. Ciò vale anche per il purè di patate. La chela sporca un attimo dopo diventa pulitissima. Nel momento in cui Spongebob pela le patate la buccia vuole verso il cestino di spazzatura per poi scomparire nel nulla prima di toccarlo. Anche con le maniglie della pentola c'è qualcosa che lo inquadra. Qui sono rivolte verso Mr. Krab. Un secondo dopo puntano nella direzione completamente opposta. Capisco che il cartone non segue la logica a prescindere. Ma qui tocchiamo di nuovo l'apice dell'assurdità. Una spugna che vive in fondo all'oceano indossa una maschera da immersione per nuotare nella zuppa. Ma siete seri? Credo sia troppo anche per un cartone come questo. Che poi la pentola è piccola. Quando Spongebob ci entra dentro sembra che abbia attraversato un portale verso un altro universo. Un piccolo accorgimento. Il tubo dell'aria si trova a destra rispetto alla maschera. Quando entra dentro la pentola questa si trova a sinistra. Spongebob mangia un pezzettino di carota. Il quale un attimo dopo torna al suo posto come se non fosse successo nulla per scomparire solamente nell'inquadratura successiva. Sulla collana di Spongebob vediamo questo cerchio di vetro nel quale non c'è nulla. Un secondo dopo ci compare un altro cerchio più piccolo al suo interno. Vicino al letto di Spongebob vediamo questa scala la quale scompare nel nulla quando la scena viene zoomata. Queste corde dietro alla spugna partono semplicemente dal tetto. Durante il cambio di inquadratura vediamo che in realtà sono fissate con dei ganci neri. In tutto ciò i giocattoli arrivano al naso di Spongebob, un attimo dopo diventano quattro volte più piccoli. Nel momento in cui il nostro personaggio principale guarda Krusty Krab, sotto i suoi piedi c'è solamente la sabbia. Un millisecondo più tardi vediamo che la spugna sta in mezzo alla strada. Adesso tocca Squiddy. Notiamo che in questa scena è impegnato nella rimozione della scritta sul vetro. Subito dopo lascia cadere tutto a terra, scappa dentro e la scritta rimane comunque sulla porta, ma ciò non le impedisce di scomparire nel nulla qualche attimo dopo quando Spongebob entra nel locale. Ciò vale anche per lo straccio e il detersivo caduti a terra davanti alla porta. Qui a parte la sabbia non c'è più nulla. La strada davanti il Krusty Krab scompare, per non parlare del locale di Plankton che dovrebbe essere piazzato proprio in questa posizione. In lontananza vediamo che davanti al locale non c'è nulla, un secondo più tardi compare Squiddy davanti alla porta. Sulla finestra, alla destra dell'entrata, non c'è nulla, dopodiché compare questo foglio con la scritta enorme. Qui vediamo un'enorme ombra lasciata dalla spugna. Indovinate cosa succede più tardi? Ovvio, l'ombra scompare completamente. A terra non vediamo alcun chiodo che compare nel bel mezzo della scena. Dall'interno vediamo che il foglio sulla finestra è diventato molto più piccolo e in tutto ciò si trova in una posizione differente rispetto a quella mostrata dall'esterno. SpongeBob è disteso a terra in modo perpendicolare rispetto alle tavole di legno. Durante il cambio di inquadratura vediamo che la spugna ruota di 90 gradi e ora si trova in parallelo rispetto a queste. SpongeBob stringe il block notice tra le mani, dopodiché le abbassa e prende questo specchietto dal nulla, per poi abbassarlo e ritrovarsi di nuovo con il block notice in mano. Sulla strada vediamo che passano solamente 4 autobus, nel momento in cui arrivano i locali da 4 diventano 5. Tutti questi pesciolini circondano la cassa, ma un ottimo dopo c'è un sacco di spazio libero intorno alla barca. La corda e le mollette con le quali vengono fissate le ordinazioni durante lo zoom magicamente scompaiono. Raga, mi sono divertito un sacco nel creare questo video, soprattutto perché porto qualcosa di meno serio sul canale. Se vi è piaciuto e vorreste vedere altre serie simili come questa, lasciate un bel mi piace qui sotto, scrivete SpongeBob nei commenti e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video.